E' stata molto intensa, molto sentita, visto anche non soltanto la vicinanza di tante istituzioni, in primis del ministro, ma anche a livello regionale, comunale, devo dire veramente importante. Poi la vicinanza dell'Ateneo, abbiamo scelto di avere l'inaugurazione dell'anno accademico qui a Ingegneria, dove c'è un'aula più grande proprio per permettere a quanto più possibile numero di persone di arrivare, colleghe, colleghe, personale, tecnico e amministrativo. E' quindi molto soddisfatto. E approfitto, salutando il magnifico rettore, di salutare tutte le magnifiche rettrici e i magnifici rettori presenti, i loro delegati, tutta la comunità accademica. Consentitemi un saluto particolare alle studentesse e agli studenti. Una giornata sicuramente che ha visto una grande partecipazione, una partecipazione di territori, di tutte le componenti dell'università, una testimonianza continua di attenzione, l'inizio di un nuovo anno dove abbiamo prospettiva, dove abbiamo tanti progetti, gran parte dei quali sono stati illustrati correttamente nella prolusione del rettore. Grazie a tutti.